Il risultato della gara di sabato scorso a Mondello tra Parma, Valle e Gela, conclusosi sull'1-1, non è stato omologato. Lo ha deciso la Lega Sicula, quasi un fatto normale in merito al ricorso sulla regolare validità della partita presentato dalla club bianco-azzurro. I legali del giolacalcio infatti contestano su due fronti la risponso della gara che si è disputata sul campo Franco-Lomonaco. All'arrivo della comitiva giolese nei pressi dello stadio della cittadina della litorale palermitano, il pullman sul quale viaggiava il giolacalcio è stato fatto fermare e secondo il racconto degli stessi testimoni bianco-azzurri alcuni individui con indosso la casacca della Parmonval, uno dei quali armato addirittura di tirapugni, hanno aggredito fisicamente i componenti della comitiva giolese. Una simile accoglienza, secondo quanto riportato nel reclamo presentato dal Gela, avrebbe provocato in alcuni elementi dell'organico bianco-azzurro, soprattutto i più giovani ed inesperti, dei contraccolpi psicologici di non poco conto rispetto al loro normale rendimento in campo. E poi, cosa di non secondaria importanza, nel parapiglia che si è scatenato durante la colluttazione, è sparita la valigetta contenente i documenti dei tesserati bianco-azzurri. Quando è stata riconsegnata mancava dei tesserini federali di tre giocatori, Floridi, Giannizzotto e Pellegrino, i quali sono stati costretti a non scendere in campo e a doversi accomodare per tutta la durata della partita in tribuna. Su queste basi, ma anche per provare a dare un freno, attraverso una eventuale sanzione esemplare, a chi si è macchiato di questi gesti, il Gela Calcio ha inoltrato in Lega il ricorso, che come primo effetto ha prodotto, come dicevamo, la non omologazione del risultato di 1-1 maturato al termine della partita. Intanto, domenica prossima si gioca e il Gela è atteso dal derby casalingo con il Mussomeri. La pioggia battente di questa mattina, così come dimostra la foto, ha reso il terreno di gioco del Vincenzo Presti un vero e proprio pantano. E stiamo parlando di un campo in erba sintetica naturale di ultima generazione, costato numerosi quattrini.